Sono Benincasa Carmela, ho 73 anni e sono pensionata. Abito a Fabria da molti anni e sono nonna di tre nipoti. Ho svolto volontariato in varie associazioni nel nostro comune, tra cui la Fides e il Centro Pensionati. Mi candido per la prima volta confidando di ricevere il sopporto dei cittadini per realizzare il programma e soprattutto per quanto riguarda i pensionati di Fabria. Desidero dare al gruppo e ai suoi compesani il mio contributo in esperienza per il bene di Fabria.